grazie maurizio acerbo segretario nazionale di rifondazione comunista diciamo prendiamo l'opportunità ieri c'è stata questa grande mobilitazione per la pace a cui diciamo anche tu hai partecipato credo uno dei pochi se non l'unico esponente politico a prendere parte le staffette proprio partendo da questa iniziativa ma in generale sulla questione della pace voglio sapere intanto tu che giudizio dai di queste mobilitazioni della possibilità di far avanzare diciamo un'opposizione sociale alle scelte del governo beh la staffetta promossa da michele santoro da servizio pubblico è stato un fatto positivo abbiamo partecipato sia io che luigi de magistris per unione popolare credo tantissimi dato che avevamo aderito e dalle foto insomma dal racconto tantissime compagni e compagni sia di rifondazione comunista che di unione popolare mi sembra in generale che ci sia stata una grande adesione spontanea anche la cosa più importante di circoli dell'ampi dell'arci tanti della cgl dei sindacati di baste dell'usb quindi mi sembra una giornata molto bella soprattutto perché questo enorme flash mob ha dato la possibilità di di rimobilitare l'opinione pubblica pacifista e penso che bisogna continuare perché il sistema politico continua a essere blindato intorno alle scelte di guerra va denunciato il fatto che la staffetta ha subito una censura pazzesca credo che i tg nazionali non ne abbiano parlato per nulla credo mi scuso se qualche tg mi è sfuggito ma ho la sensazione che sia stata quasi completamente oscurata positivamente c'è stato il fatto che sulla sette in prima serata per due sere se ne sia parlato e questo ne va dato atto sia lilly gruber che a apparenza de gregorio hanno comunque invitato santoro ma in generale il panorama eh informativo è continua a essere monopolizzato dai guerra fondai perché i principali schieramenti cioè quello di governo ma anche l'opposizione pd sono eh allineati con la nato quindi credo che bisogna continuare lo dicevo anche stamattina ho chiacchierato con Guido Ruotolo che con Santoro è stato uno insomma dei eh dei promotori eh bisogna andare avanti perché c'è bisogno di un movimento pacifista forte e questo è anche un elemento di opposizione al governo ma quando parliamo di pace di stop all'invio di armi eh di stop all'aumento dei delle spese militari siamo all'opposizione non solo del governo ma purtroppo anche dell'opposizione anzi possiamo dire che l'attuale governo di Giorgia Meloni è la prosecuzione in camicia nera eh della delle politiche dei governi precedenti soprattutto riguardo alla guerra ma non solo e quindi è stato un un'ottima e una bella giornata tra l'altro anche appassionante penso per le persone perché eh davvero Santoro ha ideato una cosa insomma un po' folle perché coprire contemporaneamente quattromila chilometri ha significato anche andare in posti assolutamente isolati tra le montagne eppure mi sono arrivate foto di persone che sono andate con la propria bandiera eh o con un cartello nel posto più impervio eh e hanno mandato la foto di aver coperto quel quel chilometro e questo credo che questa credo che sia una cosa bellissima io spero che rimotivi anche la CGL, l'AMPI, l'ARCI e la Rete Pace e Disarmo a eh a rilanciare le mobilitazioni su scala nazionale eh sono importanti flash mob e iniziative come questa ma è importante anche rilanciare la mobilitazione ripeto contro l'invio di armi ma anche contro lo spaventoso aumento delle spese militari che è volto a eh a preparare uno scenario di guerra per il futuro enorme segnalo una cosa ieri hanno contestato a Santoro in TV che noi chiediamo la resa la solita cosa che noi chiediamo la resa dell'Ucraina faccio presente che l'Italia se interrompe l'invio di armi eh non è che disarma l'Ucraina che purtroppo è stata armata dal 2014 dagli Stati Uniti e della Gran Bretagna come si è visto eh altrimenti per Putin sarebbe stata una passeggiata se l'Italia applicando l'articolo undici della Costituzione si ritirasse dal conflitto eh potrebbe assumere un'iniziativa di pace al fianco di Lula e del Papa e della Cina e questo sarebbe molto importante e poi magari darebbe anche un po' di coraggio ad altri paesi europei che eh come l'Italia subiscono eh il clima guerrefondaio e il condizionamento degli Stati Uniti. Grazie. E tu sei stato eh recentemente a Bruxelles eh questo incontro che c'è stato anche con altri eh leader delle forze politiche diciamo dell'area della sinistra e anche italiana eh hai avuto possibilità di parlare di questa eventuale possibilità di accordi per le politiche europee del prossimo anno? A europee eh siamo stati invitati a Bruxelles dal nostro gruppo la sinistra il GUE da eh da Manonobri e abbiamo partecipato appunto a a questa riunione delle a cui insieme ad altri ventuno partiti da da tutta Europa praticamente da Podemos eh partito comunista spagnolo e izquierda unida France insumis partito comunista francese il partito comunista austriaco eh le vista da dalla Slovenia eh ho perso il conto insomma c'eramo Siriza ma c'era anche unità popolare dalla Grecia come sapete farò una lista unitaria insieme al movimento di Varoufakis c'era ovviamente Gialinke che anche il copresidente del gruppo Martid eh praticamente partito dei lavoratori del Belgio che è il da Cipro insomma tutto il partito comunista portoghese il blocco d'esquerda insomma c'erano tutti eh lo schifo in irlandese insomma tutta la sinistra europea dall'Italia eravamo vari partiti oltre a rifondazione a unione popolare rappresentata da Luigi De Magistris e c'era anche una delegazione di sinistra italiana del partito comunista di Alboresi anzi c'era Alboresi diciamo eh la discussione è stata ovviamente una due giorni di confronto su quello che accade in Europa la previsione di ma non obbria che si rischia nel prossimo Parlamento europeo di passare dalla grande coalizione che è andata dai socialisti fino eh dai socialisti al ai partiti popolari diciamo europei e democristiani eh che in Italia poi e in in altri paesi erano il centro-destra fino a poco tempo fa eh nel senso che in Italia eh erano rappresentati da Forza Italia in Germania dalla Merkel eh quello che sta accadendo è che probabilmente ci potrebbe essere una maggioranza liberali conservatori eh popolari eh estrema destra eh questo viene dato per possibile in base ai eh i sondaggi eh quindi c'è stato uno scambio di informazioni su quello che accade sui terreni nazionali anche nello scenario europeo e anche di discussione sulle campagne comuni e quelli che possono essere i temi comuni eh di comuni eh di iniziativa e di campagna eh in in questi mesi per le formazioni della sinistra radicale rosso-verde antiliberista anticapitalista europea e mi sembra che ci sia una forte sintonia certo ci sono temi come come la guerra in cui ci sono la maggior parte dei partiti a pensa come noi però ci sono anche eh formazioni più prudenti eh come per esempio i finlandesi comunque insomma eh la discussione credo che sia stata molto molto eh interessante e evidente che tutti ci hanno fatto presente che sarebbe bene che dopo cinque anni di assenza eh l'Italia torni a essere rappresentata il gruppo della sinistra che per anni è stato praticamente l'unico gruppo eh in netta opposizione con le scelte politiche della governance europea perché la sinistra radicale ha contestato l'austerità di un liberista che invece non viene contestata eh dall'estrema destra eh la la sinistra radicale ha contestato le politiche dell'immigrazione le politiche del riarmo e anche la sudditanza dell'UE ai eh alla Nato e con tutto ciò che ne consegue eh ci siamo confrontati sulle campagne in corso mi pare che eh ovviamente molta attenzione allo sciopero francese sulle pensioni che ha un dimensioni storiche che potrebbe invertire la tendenza se ci fosse una vittoria eh del movimento operaio del movimento lavoratrice e dei lavoratori sul tema su cui in tutta Europa sono passate invece è passato più o meno l'inalzamento dell'età eh pensionabile i temi eh di cui abbiamo discusso sono tantissimi e sono quelli della nostra agenda dalla ripubblicizzazione dell'energia a proposito i francesi sull'iniziativa dei comunisti hanno ripubblicizzato hanno votato una legge per la rinazionalizzazione del settore energetico eh e per il controllo quindi pubblico delle bollette eh si è parlato di lavoro eh e di tutti i temi insomma che che ci interessano noi abbiamo anche detto ovviamente che in Italia per superare lo sbarramento eh del quattro per cento sarebbe bene che ci fosse una disponibilità al dialogo tra tutte le formazioni quella che c'è dentro tra le forze che si sono unite eh in unione popolare vedremo insomma è un dibattito che dobbiamo aprire anche dentro di fondazione comunista e dentro unione eh popolare io penso che sarebbe bene che ci fosse una lista di quelli che sono contro la guerra e contro eh l'invio delle armi insomma e che hanno posizioni contro il neoliberismo europeo eh penso che è emerso in molti interventi ho teso a sottolinearlo che noi andiamo eh incontro a una nuova stagione di di austerità perché il combinato disposto di innalzamento di tassi interesse da parte della BCE e eh di nuovo patto di stabilità eh da parte del della Commissione europea prefigurano un eh un nuovo attacco allo Stato sociale a quello che rimane dello Stato sociale e politiche che aumenteranno la disoccupazione e metteranno in crisi eh l'economia quindi queste sono tutte analisi condivise nel eh tra i partiti che erano presenti il problema è come riusciamo a costruire un eh una proposta forte anche nel nostro paese dove appunto c'è uno sbarramento che imporrà a tutti io spero eh di cercare di fare un miracolo come quello che abbiamo fatto eh quando faceremo l'altra Europa eh con Sipras quando riuscimmo a portare una delegazione italiana nel Parlamento europeo. Io non mi rassegno all'idea eh di rimanerne fuori perché è fondamentale portare a quel livello le nostre posizioni e dare noi anche noi un contributo eh alla lotta contro il neoliberismo, la guerra e devo dire anche contro il risorgente eh fascismo. Ti ringrazio Maurizio grazie per la disponibilità siamo sicuri che prima eh delle elezioni ci saranno altri momenti d'incontro quindi non non approfondiremo tutto oggi e ci lasciamo qualche cosa per per il domani. Grazie ancora. Buon lavoro a Transform. Ciao Roberto, ciao a tutti e tutti. Ciao. Grazie.